Il grido di allarme di Marco Tam costretti a raggiungere i pazienti solo per telefono per non mettere a rischio la nostra salute né la loro. Sono numeri impressionanti quelli che arrivano da Sondalo. Il 90% dei pazienti che arrivano con sintomi al pronto soccorso vengono ricoverati e da emergenza posti letto. Da domani e fino a sabato la consegna porta a porta e gratuita delle mascherine sanitarie per gli abitanti del paese orobico. L'iniziativa piace anche agli altri comuni. L'autore della Divina Commedia ha celebrato oggi 25 marzo lo scrittore, simbolo di lingua e cultura italiane, al centro dell'iniziativa promossa dal governo e dagli uffici scolastici territoriali di tutta Italia. Essondrio risponde. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del Tg di Telesondrio News. Senza mascherine e quel che è peggio senza una verifica delle proprie condizioni attraverso l'attuazione del tampone. Marco Tam, medico di medicina generale, lancia l'allarme. Anche fuori dagli ospedali i medici sono lasciati allo sbaraglio. Rischiamo noi e rischiano i nostri pazienti. Il servizio di Sara Baldini. I medici di famiglia sono mandati allo sbaraglio e questo non è giusto. Di coronavirus ci si continua ad ammalare, i dati parlano chiaro. Quello che però è oltremodo grave, nel pieno di un'emergenza che nessuno con certezza sapre dire quando rientrerà, è che a rischio continuano ad essere anche i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari. Lavoratori, questi, che a differenza di altre categorie che lottano contro il virus rimanendo a casa, ogni giorno escono per raggiungere corsie degli ospedali e ambulatori. Ambulatori dei medici di base meno nell'occhio del ciclone in questi giorni, ma ugualmente in grande difficoltà. Sono state date tre mascherine FP2, quelle un po' più protettive per ogni medico e vi assicuro che sono pochissime. Vanno divise col personale di studio. Tre mascherine e non sappiamo quando ci daranno le prossime. Fino adesso ci hanno dato le mascherine chirurgiche che non proteggono assolutamente e queste sono quelle in dotazione. 15 mascherine a testa da due settimane e questa è una situazione che non può continuare. Credo che in questo modo noi esponiamo tutti gli operatori a dei grossi rischi, anche i cittadini e bene che si sappiano regolare. Soldati senza armi, per usare una metafora, di fronte a un nemico, il coronavirus, che si diffonde con enorme facilità. La rabbia, il fai da te, il non sapere come fare, organizzarsi in qualche modo negli studi medici cercando di fare il possibile per proteggersi e per proteggere i cittadini, allontanare i sospetti, non poter andare a domicilio perché non abbiamo i dispositivi di protezione individuale. Ecco queste sono le angosce dei nostri colleghi sul territorio. Mascherine insufficienti, ma ciò che è ancora più grave per Giunta Rissaputo è che ai medici non vengono effettuati i tamponi. Di questa stortura si parla da settimane, ma la situazione non è certo cambiata. La situazione è estremamente seria. Negli ospedali e negli studi medici non vengono fatti i tamponi. Abbiamo pochissimi casi di medici sottoposti a tamponi. Questa è una cosa grave. Noi abbiamo protestato a livello regionale, a tutti i livelli, per poter avere i tamponi. Ho inciso molto sulle capacità operative dei medici che ormai si sono barricati dentro gli studi e hanno poche possibilità di operare correttamente. Passiamo il tempo al telefono. Io stesso ho operato, pur in pensione, facendo parecchie telefonate ai miei pazienti, ricevendo molte telefonate. Facciamo quello che possiamo, ma non abbiamo le protezioni e non siamo sottoposti a tampone. Pochissimi casi ad oggi sono sotto controllo e questo non è assolutamente accettabile. TAM lancia l'allarme, ma fa anche una sorta di mea culpa collettivo per la categoria. Noi abbiamo delle responsabilità. Certo, ci siamo resi conto che non siamo preparati a questo tipo di emergenze. Sia come sindacati, come medici, non abbiamo fatto granché per attrezzarci per questo tipo di emergenze. Avevamo delle percezioni a gennaio, ma tutti hanno sottovalutato tutto. C'erano dei salotti televisivi, c'erano delle iniziative molto tergiversanti. Le zone rosse sono partite in ritardo. Noi stessi non avevamo le idee chiare. Abbiamo improvvisato il fai da te negli studi, facendo delle barriere presunte, allontanando la gente, eccetera, ma non sapevamo come muoverci. Ho fatto un po' di esperienze indirette con i miei colleghi dell'Africa che seguivano Ebola. Ho capito cosa vuol dire vivere in un contesto di epidemia. Noi non eravamo assolutamente preparati. Nemmeno il dottor Tama riesce a intravedere una fine certa della pandemia in corso, ma di un fatto è sicuro. Questa emergenza segnerà un prima e un dopo. Resterà come monito da cui ripartire. Cambiando. Questa lezione ci accompagnerà per un sacco di tempo. Credo che in questo senso questa esperienza ci cambierà profondamente. Certo verrà il tempo in cui dovremmo imparare da questa esperienza, attrezzarci diversamente, prepararci per le emergenze, incentivare tutti gli strumenti di cura intensiva e di protezione, rilanciare il ruolo di Sondalo come ospedale per la riabilitazione respiratoria e anche per questo tipo di malattie. 25 nuovi ricoveri dalle 10 di ieri alle 10 di questa mattina all'ospedale Covid-19 di Sondalo. Nelle scorse tre settimane, scusate, nelle scorse settimane tra le persone con sintomi che si presentavano al pronto soccorso soltanto la metà veniva ricoverata e in questi giorni si arriva invece al 90%. I posti letto sono oramai al completo. I dettagli dell'emergenza nel prossimo servizio. 25 nuovi ricoveri in un solo giorno e posti letto al completo all'ospedale Covid-19 di Sondalo. È vera emergenza, lo dicono i numeri. Nella giornata di ieri si sono registrati quattro decessi, tre uomini e una donna, e quattordici dimissioni, nove uomini e cinque donne, a fronte appunto di 25 nuovi ricoveri. Nelle scorse settimane, tra le persone con sintomi che si presentavano al pronto soccorso, soltanto la metà veniva ricoverata. In questi giorni si arriva al 90%. Per questo motivo si è reso necessario aumentare ulteriormente i posti letto nei padiglioni 1 e 4, che ora sono praticamente al completo. Alle 10 di stamane i pazienti ricoverati erano 169, 117 uomini e 52 donne, 23 di cui 19 uomini e 4 donne, quelli in terapia intensiva. Intanto i letti elettrici appena acquistati sono già stati istati al quarto piano del primo padiglione, già montati con l'utilizzo di una gru, grazie ai mezzi e al personale di un'impresa locale che si è messa a disposizione gratuitamente. Altre aziende locali stanno donando quintali di derrate alimentari per il servizio mensa dell'ospedale, un moto continuo di solidarietà per sostenere in tutti i modi l'impegno dell'ospedale Covid-19. La nostra struttura e il nostro personale stanno rispondendo bene alle richieste eccezionali dovute all'emergenza, sottolinea il direttore generale Tommaso Saporito, ma le risorse sono limitate e abbiamo bisogno della collaborazione della gente per continuare la diffusione del virus. L'esperienza di altre province lombarde insegna che non si può abbassare la guardia perché i numeri sono destinati a crescere anche in Valtellina. È indispensabile rimanere a casa, limitare le uscite alle più stringenti necessità ed evitare il contatto con altre persone. I divieti sono chiari, tutti devono adeguarsi per sostenere lo sforzo straordinario e profuso dal sistema sanitario. Per finire, un aggiornamento sui tamponi, 710 quelli finora effettuati, di questi 319 sono quelli positivi, 300 quelli negativi, mentre per i restanti si è ancora in attesa dell'esito. La seduta del Consiglio Comunale del Capoluogo, convocata per il 27 marzo alle ore 17.30, e alla quale il pubblico non potrà partecipare di persona per le prescrizioni attuali in materia sanitaria, potrà essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Sondrio. E sempre per tutelare la salute delle persone e prevenire la diffusione del virus Covid-19, il Senato Marco Scaramellini ha disposto la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri cittadini, inclusi quelli delle frazioni, fino al prossimo 15 aprile. Per la sola benedizione e deposizione delle salme sarà possibile, previo accordo con gli uffici, l'accesso da parte del sacerdote e dei parenti del defunto. Ad Albosaggia adesso, dove parte domani la distribuzione gratuita di mascherine destinate all'intera popolazione. Vediamo il servizio. Un'iniziativa preziosa di aiuto nell'ambito della prevenzione del contagio da Covid-19 e che incontra un'accoglienza senza dubbio positiva da parte della popolazione dell'intero paese. Parliamo della distribuzione porta a porta di mascherine sanitarie, che da domani e fino a sabato verrà effettuata gratuitamente presso l'intero territorio comunale di Albosaggia. Siamo ad Albosaggia in compagnia del sindaco Graziano Murada. Graziano Murada che ieri è uscito con il post che abbiamo diffuso anche noi sui nostri social, perché da domani e fino a sabato inizierà la distribuzione delle mascherine in un servizio porta a porta. Sì, abbiamo deciso di dotare tutti i nostri cittadini di una mascherina chirurgica che servirà chiaramente o dovrà essere utilizzata per tutte le volte che i nostri cittadini saranno obbligati ad uscire per andare a fare la spesa in farmacia o per le urgenze del caso. Abbiamo pensato a questa iniziativa proprio per dare, diciamo così, qualcosa in più che potesse proteggere i nostri cittadini, tra l'altro tra le prerogative del sindaco c'è anche quella della tutela della salute pubblica. Ecco, una cosa va detta perché già la scorsa settimana ha preso inizio questo servizio di distribuzione delle mascherine perché lo stesso tipo di presidio protettivo è stato donato anche al locale RSA. Sì, già dalla settimana scorsa in collaborazione con la locale cooperativa agricola che devo ringraziare nella sua persona del presidente Alberto Marsetti che è quello che ha fatto, diciamo così, il lavoro logistico eravamo riusciti a recuperare 2.500-3.000 mascherine che potevano essere sufficienti per la nostra popolazione però viste le carenze che si sentivano nell'RSA la cooperativa, giustamente dico, ha preferito donarle ai soggetti più fragili e a quelle strutture in cui vi era la necessità proprio di avere un minimo di protezione e quindi abbiamo sopraseduto la distribuzione per i nostri cittadini. Pensa che questo tipo di esperienza sia replicabile in altri comuni della provincia di Sondrio? Beh, io penso assolutamente di sì perché come dicevo prima, dalla prossima settimana le mascherine chirurgiche credo che si troveranno con facilità Chiaro, ci vuole un minimo di impegno finanziario che nel nostro caso è poco più di 4.000 euro per tutti i cittadini ma credo che in situazioni di emergenza e in questa situazione credo che non siano qualche migliaia di euro che mettino in difficoltà l'amministrazione comunale Per ultimo, gli abitanti di Albosaggia come stanno vivendo questo periodo di autoisolamento dovuto appunto al pericolo di contagio e di propagazione del Covid-19? Io sono assolutamente contento di come i cittadini di Albosaggia hanno risposto alle prescrizioni imposte Io faccio quotidianamente 5-6 giri per il paese devo dire che non si vede anima viva mi preoccupo di più invece per quanto tempo la tenuta psicologica di tutti possa in qualche modo tenere Per essere in casa erano in casa ma non esattamente ognuno nella propria per evitare il diffondersi del coronavirus lo hanno verificato sabato 21 marzo scorso nella località di Isola di Madesimo i militari della stazione di Campodolcino chiamati ad effettuare i controlli finalizzati al rispetto delle limitazioni emanate per contenere i contagi è proprio nel corso di questi controlli che i carabinieri sono stati attirati da una colonna di fumo anomala che li ha portati a sorprendere un gruppo di sei amici intenti a preparare carne alla piota e bere birra si erano ritrovati per festeggiare il compleanno di uno di loro in spregio ai divieti il gruppo che si era portato al seguito delle motoslitte aveva passato la giornata in montagna per poi riunirsi nella seconda casa di un uomo di 47 anni il più anziano del gruppo identificati oltre al proprietario di casa una giovane di 27 anni di Dubino con la sua ragazza di 22 anni di Trezzone nel Comasco un uomo di 42 anni di Isola di Madesimo e due ragazze di 22 anni di Monza ma domiciliate a Madesimo tutti e sei sono stati deferiti per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità in relazione al DPCM riguardante il Covid-19 oggi la celebrazione del Dante D la giornata commemorativa dedicata alla figura e all'opera di Dante Alighieri studenti ed insegnanti della nostra provincia rispondono all'appello ne parliamo nel prossimo servizio si chiama Dante D si celebra oggi 25 marzo 2020 per la prima volta ed è la giornata dedicata a Dante Alighieri una ricorrenza istituita recentemente dal governo e che festeggia il sommo poeta che è poi il simbolo della nostra cultura e della nostra lingua un idioma talmente tanto ricco di vocaboli che noi stessi, italiani e abitanti di un altrettanto ricco e meraviglioso paese neanche riusciamo spesso ad onorare facendo economia di lessico e allora perché ricordare l'autore della Divina Commedia, della Vita Nova, del De Vulgari Eloquenzia lui, simbolo dello stil novo e devoto all'amore per la propria Beatrice proprio oggi, 25 marzo innanzitutto perché onorare la nostra cultura è cosa buona e giusta e poi perché è proprio il 25 marzo che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia il giorno dell'equinozio di primavera quello in cui il poeta fiorentino fa il suo ingresso nella selva oscura per dare il giusto lustro al poeta nato a Firenze nel 1265 il governo ha proposto la realizzazione di un vero e proprio reading una lettura delle opere dantesche affidate attraverso gli uffici scolastici territoriali alle varie province d'Italia raccolte assieme attraverso video realizzati a casa le letture affidate ad insegnanti e studenti verranno poi montate e diffuse abbiamo voluto fare qualcosa di molto piccolo ma credo significativo ho chiesto ad alcuni presidi, ad alcuni studenti, ad alcuni amici di leggere un canto della Divina Commedia che a loro piace, piace particolarmente ho chiesto di assemblarlo insieme ad altri e ne è uscita sostanzialmente una lettura abbastanza ampia anche abbastanza lunga, devo dire la verità ma che ci permette un po' di ricordarci nei modi dovuti di Dante dell'uomo che ha scritto forse uno dei testi più noti in tutto il mondo e che celebreremo con maggiore attenzione, con maggiore solennità l'anno prossimo quando ricorreranno i 700 anni dalla sua morte Per l'emergenza coronavirus le scuole sono chiuse da settimane e la didattica a distanza sembra funzionare e risulta gradita anche agli alunni non tutti gli studenti però hanno un computer a propria disposizione che possa consentire loro di seguire le lezioni mentre altri non hanno la necessaria copertura di rete per mantenere attiva la connessione per questo il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Fabio Molinari lancia un appello scuole, istituzioni, comuni mettano a disposizione i pc fissi o portatili anche a studenti non iscritti al proprio istituto e anche la Croce Rossa italiana di Morbegno è in prima fila nella battaglia contro il coronavirus aumentati a dismisura gli interventi per fronteggiare la maxi emergenza e arruolati numerosi volontari temporanei il servizio di Simone Belletti mai come in questi tempi sono messi a dura prova operatori e volontari del comitato della Croce Rossa di Morbegno in prima linea nella battaglia contro il covid-19 già in condizioni normali è incessante il loro impegno sul territorio e il loro lavoro aiuto nei confronti dei cittadini più deboli e vulnerabili in questa situazione di maxi emergenza la CRI di Morbegno più costretta del solito agli straordinari l'intero team ha risposto presente alle iniziative messe in atto la risposta da parte di tutte le componenti del comitato di Croce Rossa di Morbegno ci ha consentito in questo periodo di emergenza non solo di svolgere con tranquillità tutti i compiti che ci vengono affidati ma di potenziare ulteriormente quelle che sono le risposte al territorio abbiamo già istituito una covid unit un'ambulanza dedicata al trasporto dei pazienti confermati positivi abbiamo un'ambulanza di servizio di urgenza e emergenza una grande disponibilità da parte di tutti i componenti del comitato della città del Bitto permette di venire incontro ai bisogni della popolazione a livello sociale 35 operatori a svolgere ogni servizio di supporto ai cittadini come la distribuzione di viveri, farmaci, vestiti, beni di prima necessità la diffusione del coronavirus ha costretto l'associazione a modificare alcune attività ma non ha colto impreparato il personale che dimostra di essere pronto a ogni evenienza massima cautela e prevenzione negli interventi non possiamo e non vogliamo essere assolutamente noi i primi ad essere contagiati ma non possiamo permetterci che i soccorritori siano fondi di contagio per cui anche quando c'è la necessità di consegnare i viveri, consegnare i farmaci ci dobbiamo proteggere, dobbiamo proteggere gli altri la normalità per cui è veramente quella di dire in questo periodo restiamo a casa, restate a casa i soccorritori non possono, voi potete, per favore restate a casa e se c'è la necessità di uscire usate le mascherine per fronteggiare questo periodo di emergenza il Comitato di Morbegno della Croce Rossa italiana ha la ricerca di volontari temporanei nuove leve che diano il proprio contributo nell'affrontare le necessità del momento aumentata di smisura in questo complicato periodo appello accolto da tanti un aspetto non secondario che ci sta supportando in questo momento soprattutto per quanto riguarda le risposte al telefono per quanto riguarda l'organizzazione di alcuni servizi credo che questo potrà anche servire per far crescere la nostra società E continuano serrati, dicevamo, i controlli da parte della Polizia di Stato su tutto il territorio atti a verificare il rispetto dei divieti imposti dall'emergenza coronavirus domenica pomeriggio durante questi controlli una pattuglia della Polstrada di Bellano nei pressi dello svincolo della SS38 di Morbegno Sud ha rinvenuto sostanze stupefacenti all'interno di un'autovettura in transito che proveniva da Pusiano ed era diretta a Morbegno gli agenti vedendo una Toyota Yaris con ben tre persone a bordo si sono insospettiti e hanno deciso di sottoporla a controllo sono stati rinvenuti circa 10 grammi di hashish ed alcune dosi di cocaina ed eroina per uso personale sul posto è giunta anche una pattuglia della Polstrada di Mese i tre occupanti dell'auto, tutti i residenti nel Morbegnese erano scesi a Pusiano evidentemente per acquistare la droga e per poi fare rientro in Valtellina il coronavirus qualche giorno fa si è portato via un'altra vita quella della prichese Gianfranco Plona storica figura del comune alpino lo ricordiamo nel prossimo servizio è un virus maledetto che sta strappando dal libro della memoria pagine importanti costruite con impegno, dedizione e inenarrabile fatica una di queste è quella che ci parla di Gianfranco Plona scomparso lo scorso fine di settimana presso l'ospedale di Sondalo aveva 82 anni Plona, grande maestro di sci profondo conoscitore della montagna era stato lui a disegnare tutti i sentieri delle zone montane di quel meraviglioso lembo alpino che si estende sul territorio dell'Aprica ma non soltanto perché Gianfranco che la montagna l'amava di un amore puro e intenso si era spinto in tanti territori costituì il CAI ed il soccorso alpino dell'Aprica e da presidente della locale sezione del club alpino italiano fece costruire il rifugio Valtellina tuttora in funzione fu artefice della rinascita del Baradello devoto alla Vergine e personalità di grande spessore umano ogni anno organizzava il pellegrinaggio a piedi verso Ardesio, nella Bergamasca lo avevamo incontrato recentemente durante la manifestazione sciistica alla luce dei pionieri e vogliamo ricordarlo così sci ai piedi assieme agli amici di una vita lui, un'altra pagina indelebile della storia di queste meravigliose montagne sono stato un po' il promotore io ho 82 anni faccio ancora le mie sciate mi piace fare il fondo però andare in engadina sullo fondo perché è molto più romantico la comunità salesiana è intere generazioni di sondriesi in lutto per la scomparsa di Don Agostino Sosio Don Agostino spentosi nel primo pomeriggio di oggi all'ospedale di Sesto San Giovanni è un'altra vittima del coronavirus 66 anni originario di Semogo frazione di Val di Dentro Don Agostino era già da giorni ricoverato in terapia intensiva per molti anni il salesiano sacerdote da 38 anni per l'appunto fu incaricato dell'oratorio San Rocco di Sondrio e dal 1995 al 2001 è stato direttore dell'opera salesiana di Sondrio ed ecco il consueto appuntamento con i video inviati dagli spettatori di TSN video che potete mandare al nostro numero di whatsapp che è il 392 80 80 870 vediamone allora alcuni a tutti ciao ragazzi mi raccomando state a casa vedrete che andrà tutto bene ciao ragazzi in queste giornate con questo bel tempo la voglia di far sport è tanta ma assolutamente restate a casa e andrà tutto bene lo sport può aspettare e lo sport vuol dire soprattutto responsabilità quindi restate a casa e andrà sicuramente tutto bene ciao sono vittorio scusate per i capelli ma non posso uscire a tagliarli mi raccomando state in casa non tagliatevi i capelli aspettate prima di uscire e restate in casa noi rimaniamo a casa ciao ragazzi un saluto a tutti mi raccomando stiamo tutti a casa non usciamo neanche con la macchina tutt'al più ci giochiamo con i videogames ok un saluto ciao mi chiamo andrea sono qua con il mio gatto nerone e anche noi restiamo a casa andrà tutto bene ciao amici di tsn io resto a casa rimanete anche voi ciao a tutti restiamo in casa e andrà tutto bene ciao sono vincenzo roccia batterista di gimi damasi io resto a casa fatelo anche voi questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale appuntamento alle prossime edizioni del tg di telesondrio news buona serata al quadrifoglio a sondrio il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile al quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti camiceria maglieria calzature e accessori uomo delle migliori marche al quadrifoglio l'abbigliamento maschile di qualità al prezzo giusto ci trovi a sondrio in via caimi 72 telefono 0342 51 49 71 per te donna che cerchi nella moda uno stile davvero personale c'è new probabile donna la boutique di sondrio in diamazzini 15 dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti new probabile donna da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour un'eleganza decisamente sofisticata con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità new probabile donna abbigliamento borse accessori e calzature a sondrio in via mazzini 15 immaginari l'idea che non avevi in testa a sondrio in via bonfadini 9 barra zona stazione orario continuato dalle 9 alle 19 giovedì aperto fino alle 21 appuntamenti allo 0342 03 12 35